Diversamente bene possiamo dire, ricordiamo la notizia, il quotidiano spagnolo a Bethe, il governo venezuelano di Chavez finanziato con 3 milioni e mezzo il Movimento 5 Stelle, se uno adesso va sul sito www.ilblogdellestelle.it trova questa schermata, fake news ovvero notizia falsa, lo dice Davide Casaleggio, adesso basta, già in mattinata aveva fatto sapere che la notizia non era fondata, aveva minacciato querele, ha fatto sapere di nuovo che la misura è colma, è un hashtag che ovviamente in tendenza anche su Twitter, l'hashtag venezuelano, si studia anche la natura e la veridicità di questo documento, perché Repubblica per esempio in home page ha sentito il presunto intermediario e dice è falso. Buttura, giornataccia per il Movimento 5 Stelle, che succede? Beh in realtà io sono assolutamente...